Chi striscia sulla terra non rischia di cadere tanto facilmente come chi sale sulle cime delle montagne. Buongiorno, buon martedì e bentornati carissimi qui sul canale del Dottor Sedray. La frase di oggi del grande filosofo danese Soren Kierkegaard all'interno del suo grandissimo testo Out Out o Entenheller, scritto in danese, ci racconta ancora una volta la distanza tra l'io e le altre persone, tra qualcuno e qualcun altro, i vari modi di essere dell'essere umano, che talvolta può scegliere di volare basso, di evitare di rischiare, di strisciare a terra, come dice Kierkegaard, quindi di non cercare di raggiungere gli obiettivi più difficili, accontentandosi di quelli più semplici, quelli che mettono meno a rischio la nostra individualità, e invece altre volte può scegliere di volare alto, di cercare di sormontare le montagne, di raggiungere le cime. Certo, raggiungere le cime è un qualche cosa di difficile, e appunto la difficoltà sta nel fatto che, anche qualora ci si provasse con tutti i nostri mezzi, non è detto che non si cada. Però è proprio il tentativo, la tensione, il provare con tutte le proprie forze ad arrivare ad un obiettivo così difficile come la cima di una montagna, quello che vale il rischio della caduta. Su queste parole io vi saluto, vi auguro una buona giornata, e noi ci vediamo sicuramente domani con una nuova montagna da scalare.